Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno a tutti, bentrovati per questo nuovo video. Mi tolgo dalla vostra visuale perché il protagonista del video, chiaramente non sono io, è quello che vedete davanti a voi in livrea rossa. E che cos'è? Beh, è il frutto degli ultimi mesi di duro lavoro del sottoscritto. Ecco, non so se avete notato ma ci sono stato un pochino in video, niente in diretta, ero sempre abbastanza scarmigliato e di corsa quando facevo le cose perché un sacco, un sacco, un sacco di ore sono andate nello sviluppo di questo signore qua. Che cos'è questo signore qua? Beh, allora, per adesso lo chiamiamo la versione evoluta del Miraceti. Perché? Perché io un nome non gliel'ho ancora trovato, un nome definitivo non mi viene proprio. Potrebbe essere un Miraceti Erdog Edition? Potrebbe essere un Super Miraceti sulla scia del Super Titania? Non lo so, sono molto indeciso. Commentate qua sotto, fatemi sapere quale potrebbe essere un nome adeguato per questo signore. Perché io sono veramente nelle canne. Comunque, un po' di storia. Tutto è cominciato con il Monaco Allende l'anno scorso, quando ho preso accordi per avere le signore Elrog a disposizione e poterle distribuire per l'Italia. Tutto bene. Sapevo già di che pasta fossero fatte. Però, dal sapere di che pasta fossero fatte, all'averle per le mani, poterle provare, potersele rigirare e tutto il resto, di acqua ne passa. E così, con l'occasione, cosa potevo fare se non prenderne un paio e metterle su un Miraceti? Così, alla bersagliera, senza saperne leggere né scrivere, come si suol dire. La sorpresa è stata tanta quando ho sentito che cosa queste valvole potessero fare con un amplificatore che, tutto sommato, alla fine, completo, costa circa il doppio di una coppia di ER300B e poco di più di una coppia di ER300B al molibdeno. Insomma, da lì a pensare di mettere mano al Miraceti per riuscire a far esprimere ancora meglio queste valvole, il passo è stato breve. Cioè, il passo è stato breve per decidere di farlo. Perché, quando ho cominciato a sperimentare, di dettagli e di cose da mettere a punto ne sono saltate fuori una marea. Beh, l'ultima lo sapete, no? Ci siamo aggiornati recentemente su questa cosa. Il problema, o comunque il dubbio, riguardo all'alimentazione. Cioè, al fatto di aver bisogno di un'alimentazione particolarmente curata per i filamenti di questi tubi. Un'alimentazione che permetta di evitare spunti di corrente all'accensione, che permetta un riscaldamento molto progressivo. E beh, non è stato banale, ma queste cose tecniche le vedremo poi. In realtà, quello che mi è successo con il Miraceti è stato essenzialmente quello che mi è successo col Titania. Cioè, il riscoprire nel Miraceti una piattaforma con potenzialità veramente, veramente grandi, sfruttate solo parzialmente. Perché sfruttate solo parzialmente? Beh, perché il Miraceti è un amplificatore single-ended di 300B che costa circa 3.000 euro. Beh, poi scontato addirittura qualcosa di meno. Insomma, quindi un oggetto per questo tipo di amplificatore estremamente economico. Estremamente economico, ma con, come vi dicevo, una serie di prerogative che lo mettono un po' a parte dalla concorrenza. Se vogliamo parlare di concorrenza, ma francamente mi viene difficile. In primo luogo, lo sappiamo, sono i trasformatori quelli che impressionano. Questi toroidali che hanno messo a punto i signori di FETS e quindi i toroidi, sono decisamente notevoli. E in più a loro costa poco farli. Per cui il risultato è avere a disposizione una piattaforma con una base di partenza veramente ottima. Ha un costo, beh, estremamente contenuto direi. Qualcuno commenta sempre nei miei video, belli questi amplificatori, ma sono troppo costosi. Lo capisco, ragazzi, cioè 3.000 euro non sono pochi in assoluto. Diciamo che, consentitemi questa espressione, sono pochi per questo tipo di amplificatore, ok? L'altro giorno con un cliente buttavamo un occhio in giro per vedere che cosa propone la concorrenza. E per un single-ended di 300B, normale, normale, arrivare ai 10.000 euro non è molto difficile. E il problema è che a 10.000 euro non è che troviamo una rivoluzione rispetto a quella che è questa macchina. Sarà questione di economia di produzione, sarà questione di quello che volete. Però resta il fatto che per trovare dei degni avversari bisogna salire tanto di prezzo. Perché? Perché quelli economici come lui, l'ho ripetuto tante volte, ma giova a ripeterlo, hanno il loro tallone d'Achille, il loro enorme tallone d'Achille nella qualità dei trasformatori, di uscita e di alimentazione, che essendo molto costosi da produrre, sono i primi che risentono dell'accetta delle economie. E quindi troviamo dei trasformatorini che sono veramente penosi, lasciatemelo dire. Quindi nel caso del Miraceti davvero non bisogna lasciarsi fuorviare dal prezzo, le potenzialità sono ben diverse. E ce ne eravamo già accorti quando con il Miraceti normale abbiamo cominciato, ad esempio quando avevamo solo queste, a mettere su le finali KR, a mettere su delle driver d'epoca di qualità molto alta. E ci siamo accorti, e con me se ne sono accorte diverse persone per la verità, che i risultati salivano di livello in maniera impressionante, cioè sembrava di cambiare amplificatore. Perché? Perché il collo di bottiglia era la qualità delle valvole standard, che sono assolutamente dignitose e assolutamente allineate al prezzo dell'amplificatore, ma non alla qualità intrinseca, quella è ben altra cosa. Non che il Miraceti nasconda dei segreti inviolabili, l'ho sempre detto e lo ripeto nuovamente, i segreti, fra molte virgolette, di questo apparecchio sono la qualità dei trasformatori, dei ferri in generale, e la semplicità del circuito. Non ci hanno messo niente di strano, hanno preso un circuito classico, lo hanno implementato con componentistica di dignitosissima qualità ed è venuto fuori un bel amplificatore, che già in versione base dà delle soddisfazioni importanti a chi abbia dei diffusori. Diciamo dai 90 dB effettivi in su, non c'è bisogno tra l'altro di diffusori di efficienza estremamente alta, con la 300B. Quindi cosa si trattava di fare? Beh, per spremere tutto il possibile da questo amplificatore si trattava di andare ad affinare quegli aspetti che a causa del budget limitato, volendo stare in una fascia di prezzo ben precisa, erano stati in qualche modo limitati. Prima cosa l'abbiamo detto valvole belle. Con l'arrivo delle valvole Errog il concetto di valvole belle è diventato ancora più rilevante, perché queste sono valvole completamente di un altro livello rispetto a qualsiasi 300B a ossidi. Vi ricordate che le Errog hanno un filamento in tungstenotoriato, lo stesso di valvole nobili, come la 845, la 211, la 10, eccetera, 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 che dà risultati sonicamente di un livello completamente diverso da una valvola a ossidi pur buona, pur ottima, ma con gli ossidi si arriva fino a un certo punto. Con questa ci si svincola anche da quel limite e si va su tutt'altro livello. Mentre giravo intorno a questo amplificatore, ho anche avuto modo di sviluppare il Cantico 845 di cui abbiamo già parlato, di svilupparlo circuitalmente, allo stato attuale delle cose non è ancora stato ingegnerizzato in maniera definitiva. Esiste un prototipo che peraltro sta andando a casa di una persona che lo ha voluto per il suo impianto. Ma ecco, questo è servito a sua volta come banco di prova per tutta una serie di soluzioni e di affinamenti e soprattutto per riuscire a capire quale fosse il reale potenziale di questo tipo di valvola, perché poi fondamentalmente, parlando di Elrog, la differenza fra la loro 300B e la loro 845 è solamente dimensionale perché a livello di materiali, a livello concettuale, è esattamente la stessa valvola. E quindi, munito di santa pazienza e di un sacco di orecchie, ho avuto modo di capire dove avrei potuto spingermi nell'affinare le funzionalità del nostro Miraceti. E la risposta è stata, beh cavolo, molto in alto. Quello che ho voluto fare su questa macchina è stato rispettare il più possibile il circuito originale del Miraceti, eliminando quelli che dicevo fossero i colli di bottiglia della produzione originale. Quindi gli interventi sono stati in realtà molteplici. Intanto quel filo di controreazione che c'è nel circuito originale è stato tolto. Poi l'intervento è stato sulla componentistica. Tutta la componentistica del circuito è stata rimossa ed è stata utilizzata componentistica di livello superiore. In questo caso poteva far scuola il Super Titania. Il problema è che quando ho provato a utilizzare componentistica di livello del Super Titania ho dovuto rendermi conto, e forse avrei dovuto anche farlo prima, che il livello di questa macchina era estremamente più alto. Per cui se nel Super Titania con quella componentistica riuscivamo a far esprimere il circuito al meglio, qui eravamo ancora limitati timbricamente, dinamicamente. E anche lì c'è stato bisogno letteralmente di ripartire da capo e di ricercare soluzioni e armonie nuove. Perché? Perché quando si va a cercare la componentistica di un circuito e la si vuole andare a cercare veramente con l'anternino per rispettare i giusti equilibri e per dare la giusta finitura al suono, il cambiamento di un componente si ripercuote sull'equilibrio di questo con tutti gli altri componenti. Per cui cambio un condensatore catodico? Ok? Facilmente dovrò andare a toccare anche i condensatori d'accoppiamento perché l'equilibrio non sarà più perfetto e così via. Quindi si tratta di un lavoro composto di ripetute iterazioni, per cui cambio questo, 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 poi provo questo, 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 poi questo, 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 eccetera, eccetera. Lavoro che porta via un sacco di tempo, ma visti i risultati vi posso garantire che ne è valsa ampiamente la pena. Un altro ritocchino che è stato fatto è stato nel circuito di ingresso, circuito che aveva alcune caratteristiche dettate da necessità pratiche, assolutamente rispettabili nel circuito originale, ma che in questo caso potevano essere, come dire, scavalcate in ragione di una migliore resa dal punto di vista del suono, poi alla fine che è questo che ci interessa. Inutile dire che nella più pura tradizione locale anche tutta l'alimentazione è stata rifatta. Completamente è stato ottenuto solo l'alimentatore, solo il trasformatore d'alimentazione, il resto è stato buttato tutto a mare, è stato rifatto tutto ex novo, sia per quanto riguarda l'alimentazione delle finali, sia per quanto riguarda l'alimentazione dello stadio di ingresso e driver. E l'ultima dolente, fra virgolette, ma insomma l'ultima questione affrontata è stata quella dell'alimentazione dei filamenti, di cui abbiamo già parlato, per cui è stato sviluppato un circuito ad hoc che sostituisce la gran parte dell'alimentazione originale per poter assicurare la miglior longevità alle valvole e l'utilizzo privo di ogni stress alle medesime. Perché? Perché i filamenti in tolsenatoriano di queste valvole sono molto più delicati di quelli a ossidi delle 300B tradizionali e quindi hanno bisogno di un trattamento in guanti bianchi. Ecco, questa nuova versione è adatta a funzionare solo con le valvole Elrog? Assolutamente no. Le valvole Elrog elettricamente sono assolutamente equiparabili a una 300B tradizionale. Per quanto riguarda l'unica particolarità che le riguarda è quella, come vi dicevo, dell'alimentazione del filamento, ma questo è un riguardo che fa bene a loro, ma fa bene anche a qualsiasi altra valvola. Per cui nulla vieta di completare il Miraceti Evoluto, no, si chiama già Evolution, no, no, questo nome lo schertiamo. Nulla vieta di completare questo amplificatore con un set di valvole KR. Adesso forse mi dovranno arrivare anche delle EAT e quindi nel caso, perché no, anche le EAT. Quello che ovviamente raccomando è l'utilizzo di una coppia di driver d'epoca, selezionata, accoppiata, eccetera, quelle ve le posso, lo sapete, fornire, ne ho sempre in casa e ci sono proprio per questo, cioè perché su questo amplificatore in particolare diventano assolutamente necessarie. Se su quello vecchio erano un bel completamento e un importante upgrade, qui siamo assolutamente alla necessità. È inutile fare questa modifica se non si ha l'intenzione di mettere su delle valvole buone. Non che non si senta la modifica, anche con le valvole normali, è assolutamente dirompente, ci mancherebbe. Ma con questo set di valvole il livello di questo amplificatore va veramente fuori scala. Non entriamo ancora oggi nel merito della modifica in sé tecnicamente. Facciamo un video dedicato proprio a guardar dentro e a vedere pezzo per pezzo cosa è stato fatto e quali sono le differenze fra la versione normale e la versione evoluta? Modificata? Non lo so. Mi raccomando, commentate qua sotto, mandatemi tutte le vostre idee per il nome e vedremo di capire come chiamare questo signore. Però dicevo, per oggi non entriamo nei dettagli tecnici, li vediamo in un video apposta dove faremo anche un confronto fra versione normale e versione nuova. chiuderei con un paio di note un po' più pratiche, cioè quanto costa la modifica. Il costo della modifica è stato fissato in 2000 euro esattamente come Super Titania. E su che amplificatori può essere applicata questa modifica? Beh, allora, questa modifica può essere applicata fondamentalmente su tutti i miraceti. Quello che raccomanderò caldamente è per i nuovi acquirenti di miraceti che vogliono montare questa modifica. Per quanto riguarda gli amplificatori nuovi e su cui avete intenzione di montare la modifica, io vi obbligherei ad acquistare la versione Evo perché ha uno chassis molto più grande e si riesce a lavorare dentro molto meglio. Chi invece ha già un miraceti in versione normale, non c'è problema, si può fare tutto, vedremo poi nel dettaglio le differenze dove c'è da intervenire, dove bisogna fare delle cose leggermente diverse fra un caso e l'altro, ma fondamentalmente il 99,9% della modifica è effettuabile tranquillamente su entrambi i modelli. Addirittura, per chi volesse, la modifica è effettuabile anche sul miraceti 2A3. Le 2A3 di Elrog non ci sono, ma chi volesse montare delle 2A3 belle, KR o addirittura chi avesse delle 2A3 nos, avesse la possibilità di montare delle 2A3 nos, meglio ancora, ecco in quei casi sappiate che comunque la modifica porterà benefici anche al miraceti 2A3. Direi che di questo non possiamo che essere grati a Elrog per aver stimolato questo effetto valanga che ha portato a tutta una serie di cose interessanti. Bene, a questo punto io vi saluterei e vi rimanderei al prossimo video per guardar dentro e capire proprio in dettaglio che cosa sia stato fatto per migliorare questa macchina. Mi raccomando, nei commenti sotto, trovategli un nome, mettete un like, condividete il video e vediamo un pochino di spargere il verbo. A prossimo!